Buongiorno a tutti coloro che sono in collegamento per questa puntata del mercoledì dell'Accademia e ringrazio ancora una volta le autorità dell'Accademia che mi hanno invitato a tenere questa conversazione che verte a un titolo l'ospite inatteso e questo ospite inatteso come forse voi sapete o avete sospettato leggendo la locandina distribuita dall'Accademia è nient'altro che quell'ospite che abbiamo oramai da un anno che si chiama Covid-19 io non sono né un epidemiologo, non sono uno scienziato, non sono un medico mi occupo di popolazione dal punto di vista essenzialmente sociale, economico, statistico e quindi la mia angolatura è diversa da quella degli scienziati perché mi dichiaro assolutamente incompetente su questo però mi interessa e mi sono interessato dal punto di vista delle relazioni tra sviluppo della popolazione e il nostro mondo mi sono interessato molto delle catastrofi e delle epidemie del passato e quindi forse vale la pena dare uno sguardo lungo alle vicende del nostro pianeta dal punto di vista dell'incidenza di queste catastrofi, di questi traumi qui in questo bel disegno c'è una storia delle pandemie non mi ci soffermo molto ma quelle specie di gomitoli o ricci di mare colorati rappresentano le varie epidemie nel passato e la dimensione di questi ricci o di questi gomitoli è proporzionale al presunto numero di decessi causati dalle epidemie stesse naturalmente sempre giganteggia nella storia dell'umanità le epidemie di peste sia dell'epoca diciamo tardo-romana e giustinianea o dell'epoca del XIV secolo e poi altre grandi pandemie come quelle di Vaiolo, le stesse pandemie influenzali e la grande pandemia della spagnola di ormai 102-103 anni fa della quale poi parlerò un attimo alla fine di questo discorso possiamo procedere con le slide questa slide introduttiva ci fa vedere la mortalità e la natalità in Svezia in un periodo di più di due secoli e mezzo ho preso la Svezia perché è il paese che ha le statistiche molto precise fin dal XVIII secolo e quindi c'è una serie storica molto lunga sull'andamento annuale dei decessi e quindi è possibile poi calcolare vari indici che sono utili per capire lo sviluppo della popolazione svedese ma quello che voglio farvi vedere qua è l'andamento della curva arancione che non è altro che l'andamento dei decessi cioè del tasso di mortalità numero di morti ogni mille abitanti nei vari anni dal 1750 all'inizio di questo nostro secolo la curva azzurra rappresenta invece l'andamento della natalità cioè delle nascite concentriamoci sopra il solo andamento dei decessi come vedete questa curva ha delle grandissime oscillazioni nella prima fase nella seconda metà del 1700 e prima parte dell'800 con punte che corrispondono a gravi carestie e epidemie legate alle carestie nel 1700 corrispondono ancora a effetti congiunti di carestie e malattie infettive, epidemiche soprattutto il tifo legate alle carestie ancora il colera nella prima parte dell'800 poi come vedete questa curva si va in qualche modo lisciando le punte si attenuano le oscillazioni si attenuano fino alla curva diventa quasi una curva liscia negli ultimi 50 anni negli ultimi 50 l'ultimo picco è dovuto appunto alla spagnola di 100 anni fa dopodiché la curva ha delle oscillazioni ma sono oscillazioni molto piccole rispetto a quelle del passato sono tutte punte che sono legate all'ospite inatteso molto spesso questo ospite inatteso però si è rappresentato varie volte in precedenza nella storia dell'umanità per cui molto spesso questo ospite è inatteso solo perché ne perdiamo memoria non perché effettivamente sia un ospite nuovo possiamo procedere con le slide intorno alle quali qui di nuovo per il nostro ricordo vedete tre colonne nella prima ci sono alcune malattie infettive tutte molto sgradevoli nella seconda colonna che è quella su cui voglio attirare la vostra attenzione ci sono dei numerini che rappresentano il cosiddetto R con 0 che ormai è diventato molto popolare purtroppo essendoci ci viene rifilato giornalmente dozzine di volte sui giornali, televisioni, radio eccetera che non è altro che diciamo l'attitudine a diffondersi di una malattia di una patologia cioè il numero medio di contatti e di contagi che una persona infetta da questo da un virus o comunque da un microbo può generare nella popolazione che non è suscettibile cioè non è immunizzata rispetto a questa malattia ebbene il nostro ospite inatteso quello che sta con noi ormai da un anno ha un R con 0 insomma intorno al 2-3% al 2-3 scusate non per cento al 2-3 volte cioè mediamente ogni persona ne potrebbe infettare 2 o 3 un po' più alto dell'influenza ma molto più basso di altre storiche malattie come la pertoste il morbillo come vedete hanno livelli estremamente più alti di infetti chiamiamolo così di contagiosità possiamo procedere questo è una premessa che ci può naturalmente noi abbiamo trovato una protezione per molte di queste malattie attraverso i vaccini che sono la nostra difesa aurea diciamo contro ogni patologia ecco questo è un giovanotto che è vaccinato contro l'asiatica del 1956-57 io fui meno fortunato perché l'asiatica in quell'anno e più o meno a quell'età di quel ragazzo lì me ne ammalai lo ricordo come un'influenza un po' sgradevole ma con conseguenze relativamente modeste lo dico perché diciamo la nostra barriera dal tempo di Jenner che trovò il vaccino o che scoperse diciamo così il vaccino contro il vaiolo sono i vaccini possiamo andare ancora avanti con le slide e entrare un po' nell'argomento più precisamente ecco quali sono le armi antiche e moderne contro il contagio oggi si parla di tracciamento degli infetti e naturalmente di vaccini ma diciamo per i secoli e sicuramente nell'ultimo millennio il rimedio base è la fuga cioè l'isolamento il prendere distanza fisica non sociale mi raccomando questa distanza sociale è veramente una nefandezza terminologica diciamo è l'isolamento fisico delle persone in vari modi questo isolamento si può ottenere in mille modi naturalmente ma fino dal quattrocento anzi forse direi fino dal quattordicesimo secolo si creano istituzioni per esempio nelle città europee nelle città italiane che poi erano in questo caso sono all'avanguardia in realtà si creano magistratura che approntano strumenti per proteggere per isolare gli individui cioè le bolette di sanità che attestano l'origine della persona se viene da un'area infetta oppure no se viene da un'area infetta si isola se non è infetta non si isola le quarantene per le navi le patenti che attestano la provenienza delle navi i cordoni sanitari i lazzaretti eccetera per esempio nel corso delle due ultime gravi epidemie di peste in Italia quella del 30-31 del 56-57 c'è un continuo scambio di missive di spacci tra i vari stati e tra le varie città per mettere in guardia per avvertire della circolazione della malattia e dei provvedimenti che via via vengono presi quindi diciamo le società del passato si attrezzavano anche dal punto di vista burocratico a prendere le distanze o a far sì che le popolazioni sane prendessero distanza fisica dalla popolazione o dagli individui infetti quindi questa è l'arma di sempre è l'arma del passato come è l'arma principale di oggi oggi l'unica vera arma che noi abbiamo prima dell'inoculazione prima del vaccino è il distanziamento il cosiddetto distanziamento procediamo ancora con la slide e vediamo ecco questo è un grazioso distanziamento era quella delle sette donzelle dei tre giovani fiorentini che si isolano sulle colline di Fiesole dalla città colpita dalla peste nel 1348 e quindi suonano il liuto si raccontano le favole in fondo c'è la città ma loro stanno tranquilli in una zona diciamo che loro ritenevano protetta e la fuga è stata l'arma di difesa delle soprattutto delle ceti benestanti dei ceti nobili nel rinascimento contro la peste i diari sono pieni di fuga si va in campagna pensando lì di essere isolati o di essere protetti quindi c'è una frequenza di fuga che si coglie nella letteratura dell'epoca che è molto interessante e anche certe volte diciamo certe volte tragica certe volte amena possiamo procedere con le slide vediamo qui invece isolamenti molto più molto meno belli di quelli delle giovani del Boccaccio questa è la pianta dell'Azzaretto di Milano nel XVII secolo tutto il perimetro sono gli archi e i portici in cui venivano alloggiati diciamo per così dire le persone messe in isolamento questo è l'Azzaretto vecchio di Venezia altro in un'isola quindi ancora più protetto rispetto all'esterno più isolato rispetto all'esterno possiamo ancora procedere con la slide successiva ecco oppure i provvedimenti ad hoc si prendono in continuazione cordone sanitario a Parigi cordoni sanitari in Prussia in Provenza in Lingua d'Oca a Messina che è l'ultimo quasi l'ultimo episodio di peste in Italia Messina viene circondata da tre cordoni sanitari di guardie messe a distanza ogni cerchio a distanza dall'altro intorno alla città con l'incarico di convincere magari sparandoli addosso alle persone a non entrare e soprattutto a non uscire dalla città appestata possiamo ancora continuare con le slide oppure questo è un altro tipo di distanziamento attraverso il vestiario dubito che fosse molto frequente questa specie di carnevalata del dottore con il vestito da protetto da una tunica e con guantoni e con con una maschera a becco nel becco profumi aromi però diciamo se noi andiamo in un ospedale oggi a parte questa specie di becco pronunciato il vestiario non è molto dissimile è questo il tentativo di protezione cioè di distanziarsi di nuovo dall'infezione andiamo avanti ancora questa è la la peste di Londra nel 1665 qui è un è un altro discorso ma queste zone gialle e arancione cioè la city e le liberties furono quelle più tartassate dalla peste furono quelle che poi vennero in parte sigillate per evitare che la peste si trasferisse fuori della città e nel resto del paese possiamo ancora andare avanti questo ricordo per chi è interessato alla letteratura e alla peste di Camus anche Orano la città di Orano dove la peste del romanzo avviene negli anni 40 si isola dal resto del paese e non fa entrare e uscire le persone le porte sono guardate gli accessi sono chiusi vogliamo continuare ancora con le slide ecco nel nuovo mondo ecco questa è una storia abbastanza divertente per così dire divertente a leggerla oggi non tanto per i protagonisti era nelle 30 missioni del Paraguay che erano tenute dai gesuiti cioè che erano praticamente delle piccole città stato governate dai gesuiti ogni gesuita aveva in carico una missione che erano piccole città di 3, 4, 5 mila abitanti quindi per l'epoca erano dei grossi agglomerati e venivano governate diciamo quasi dittatorialmente dai gesuiti il padre Cardiel ci lascia veniva dalle Baleari era un gesuita che aveva in carico una di queste missioni aveva il suo sistema per isolare i malati del vaiolo che era la grande la grande anzi se si può procedere alla slide successiva e poi ritornare indietro qui non c'era questo questo è il vaiolo che che fa strage nel 1521 in Messico ecco questi questi due questa coppia non ha distanziamento e naturalmente il risultato è quello di destra che il contagio rapidamente si diffonde e i messicani imparano presto la lezione che anche loro devono distanziarsi quando il vaiolo comincia a affliggere una determinata zona se ritorniamo indietro alla slide precedente il padre Cardiel aveva fatto questo trovato questo metodo metteva i contagiati o i sospetti contagiati in capanne che erano distanziate dalla missione e lì ci mettevano il contagiato se questo contagiato sopravviveva bene se questo contagiato o sospetto contagiato sviluppava il vaiolo veniva messo in una capanne ancora più lontane la capanna in cui era stato alloggiato veniva bruciata con i suoi effetti personali e di nuovo spostato in una zona ancora più periferica dove veniva nutrito in un certo modo e lì o sopravviveva o moriva ma in questo modo cercava di isolare la missione dal contagio e questo di nuovo era il distanziamento distanziamento noi non abbiamo le capanne ma insomma se le avessimo probabilmente seguiremmo lo stesso sistema possiamo andare avanti e saltare anche questa slide che abbiamo già vista nel tempo della Spagnola la politica dell'isolamento fu più blanda ricordiamo che la Spagnola viene dopo infierisce negli ultimi due mesi di guerra quindi diciamo le popolazioni erano già assai spaventate ovviamente dalla guerra e in qualche modo accolsero la Spagnola quasi come una normale influenza un po' più feroce di quelle precedenti ma insomma dopo gli ecidi e le stragi di quattro anni di guerra tutto sommato non se ne diciamo si tentò anche utilizzando la censura di abbassarne l'impatto psicologico sulla popolazione possiamo vedere qui andare alla slide seguente il sindaco di Milano fa un'ordinanza è un'ordinanza che potrebbe fare il sindaco Sala tutto sommato con linguaggio diverso quindi pulizia evitare i contatti con le persone numero tre evitare tutti i contatti con persone non necessari i contatti così facendo si mette in pratica l'unico mezzo veramente efficace contro l'influenza cioè il distanziamento possiamo continuare le mascherine questi signori sono a pranzo le cameriere hanno la mascherina loro no ovviamente altrimenti come facevano a mangiare e a bere possiamo ancora vederne un'altra di slide questa è la polizia di Boston andiamo ancora avanti altra slide questi invece tanto distanziati non erano ma erano i malati degli ammalati della Spagnola in un enorme spazio qui siamo di nuovo in America continuiamo ancora e questo è il distanziamento attuale tutti noi lo conosciamo e c'è anche un altro tipo di distanziamento che ancora non è stato brevettato ma che potrebbe esserlo suggerisco che lo sia e lo vediamo nella slide successiva ecco questo potrebbe essere un nuovo tipo di distanziamento con un nuovo tipo di scarpa che ci permette di stare allontani dai vicini ora vorrei ho ancora una decina di minuti e li vorrei utilizzare per capire che cosa c'è alla radice di questa nuova di questa nuova di questa nuova pestilenza termine generico che veniva in genere usato andiamo alla successiva slide chi è colpevole della diffusione del nascere della diffusione di questo contagio lo sviluppo cioè il sorgere dell'epidemia come conseguenza dell'intrusione umana nei delicati equilibri naturali e quindi questa sarebbe la prova provata che il nostro tipo di modello di sviluppo è un modello insostenibile e che in un mondo che è molto mobile che sarà ancora forse più mobile nel futuro siamo destinati a ulteriori catastrofi ora questa generica considerazione ci sono degli elementi di verità ma ci sono anche degli elementi di grande distorsione perché mai come nel passato l'intrusione umana nell'ambiente naturale è stata pervicace costante e continua il mondo contadino era un mondo che era continuamente a contatto con la vita animale e con la vita naturale i contadini avevano la stalla sotto casa qualche volta dormivano nella stalla c'avevano gli animali da cortile andavano a lavorare i campi spesso erano scalzi andavano a caccia nei boschi o a raccogliere i funghi andavano andavano nei pantani a cacciare le anatre e via dicendo quindi il contatto della popolazione contadina che era il 90% delle popolazioni premoderne era un contatto con la natura un contatto continuo e un'intrusione continua quindi oggi quale persona fa la vita del contadino del contadino del passato ha un'intrusione così continua con la natura come le popolazioni del passato quindi io credo che bisogna un pochino ricalibrare questa chiamata alla colpevolezza del modello di sviluppo pensarci sopra insomma ne parlavo con un epidemiologo amico e collega e anche membro dell'Accademia delle Scienze di Torino col quale cercavo conforto su questa mia dubbi diciamo sopra chiamare a colpevole lo sviluppo in sé della nostra pandemia andiamo avanti oppure va bene diciamo l'intrusione porta al passaggio di specie cioè porta al fatto che patologie virus microbi che sono adattati nel mondo animale poi passano attraverso il cavallo attraverso il maiale attraverso le anatre attraverso i polli attraverso i pipistrelli passa al genere passa agli umani andiamo ancora avanti e vediamo che se no è la globalizzazione la globalizzazione è vero che la globalizzazione mette in contatto velocemente anche gli angoli più remoti della terra però ricordiamoci che la peste partita dall'Oriente arrivò in poco tempo cioè in uno un anno in Europa e dall'Europa passò girò tutta l'Europa fino al nord della Russia passò in Nord Africa e in due tre anni fece il giro di un continente quindi non c'era globalizzazione come lo intendiamo oggi ma un virus in genere trova le strade per circolare rapidamente seguiamo seguiamo ancora oppure la sua crescita demografica sì sicuramente al tempo della Spagnola eravamo due miliardi oggi siamo quasi otto miliardi e sicuramente la grande densità delle grandi metropoli dei grandi plessi diciamo urbani Milano e la Lombardia che è una grande grande area urbanizzata Madrid Parigi Londra New York Città del Messico San Paolo eccetera sono stati non i focolai ma diciamo le fuscine e i luoghi dove il contagio si è diffuso con grande velocità con grande e quindi sono stati dei motori della diffusione sicuramente questo questo è vero ma non è la crescita solo la crescita demografica in sé ma è il modo di distribuirsi delle nostre popolazioni sul territorio e quindi gli umani sono esseri gregari amano stare fittamente insieme quindi questa grande urbanizzazione è una conseguenza dei nostri modi di vivere è un modo di vivere connaturato nella specie umana e certamente c'è un legame anche se è difficile capire in che misura questo legame è causa del contagio della sua diffusione possiamo ancora passare alla slide successiva sicuramente la densità ecco questi i modi di vita cioè la densità abitativa la frequenza dei contatti tra le persone i nostri modi di vita di radunarsi nelle piazze di vivere all'interno o all'esterno di avere contatti fisici con le persone insomma sono tutti aspetti sociali del nostro vivere che fanno sì che il distanziamento diciamo possa non avvenire o possa o non sia non ci sia distanziamento e quindi ci sia velocissima diffusione certamente questo è e ritorniamo a quanto diceva il sindaco di Milano nel 1918 che era l'unica arma che aveva in mano era quella di distanziare le persone quindi certamente è nei nostri modi di vita di vivere che noi possiamo vedere la causa forse la causa primaria gli ultimi minuti che mi restano li vorrei utilizzare per un confronto tra la spagnola e il covid in Italia vedete qui c'è un piccolo purtroppo orrendo bilancio ma io sono una persona che lavora sui numeri e quindi questi numeri bisogna che li tiri fuori la spagnola diciamo le indagini più accurate ci dicono che costò 466 mila vite umane cioè quasi quanti i decessi dovuti ai tre anni di guerra che furono circa 600 mila quindi non molto distanza quindi pensiamo all'impatto enorme che la spagnola ebbe il covid purtroppo ha fatto 78 mila decessi 79 mila fino a oggi noi speriamo che questa curva possa flettersi e che non debba continuare troppo a lungo ma certamente io penso è ragionevole pensare che il bilancio finale sarà molto minore fortunatamente ma fortunatamente di quanto non sia stato quello della spagnola l'età media dei deceduti fu di 30 anni per la spagnola perché la spagnola colpiva molto le classi giovanili mentre il covid come sappiamo è una malattia come altre malattie respiratorie che colpisce soprattutto gli anziani e i molto anziani dove l'età media è di 80 anni delle vittime del covid in Italia e nel mondo in genere quindi diciamo di nuovo statisticamente una vittima della spagnola perdeva mediamente una trentina anni di vita perché la speranza di vita era intorno ai 60 anni a quell'epoca media quindi queste giovani persone perdevano un tratto lungo di vita mentre gli anziani che purtroppo muoiono adesso perdono un tratto di vita molto più corto il che fa un numero medio di anni di vita perduti diciamo così e di nuovo siamo di nuovo alla cruda e antipatica statistica ma che comunque bisogna in qualche modo farsene carico la spagnola è costata 13 milioni di anni di vita in relativa a buona salute agli italiani di quell'epoca che erano 37 milioni e è costata fino ad oggi 0,8 milioni di anni di vita agli italiani che oggi sono 60 milioni quindi c'è una certa forte sproporzione tra i danni della spagnola e i danni del covid 19 fino ad oggi e noi speriamo che il vaccino presto possa far flettere la curva rapidamente e inoltre la spagnola fece tantissime vedove e tantissimi orfani perché morivano i giovani e molti di questi giovani avevano mogli mariti mariti o mogli e figli piccoli e quindi il numero di orfani e il numero di vedove e di vedovi è stato un numero elevatissimo contrariamente a quello che fortunatamente succede oggi perché diciamo il numero di orfani fortunatamente sarà piccolissimo di orfani diciamo minori piccoli bambini bambine e quindi diciamo la ferita inferta dalla spagnola fu enormemente più sanguinosa più tremenda che non la ferita che ci sta affliggendo oggi con il covid quindi l'ospite inatteso rischia di restare con noi ancora per un certo tempo credo che la tecnologia le nostre conoscenze siano riuscite in poco tempo a trovare a trovare il freno al diffondersi di questa nuova moderna pestilenza tutti ci auguriamo che sia così e niente vi ringrazio per la vostra attenzione grazie 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 a tutti.